Conclusa la rassegna Caro Mostro, 200 anni di Frankenstein, una settimana di appuntamenti aperti alla cittadinanza che l'Università di Verona in collaborazione con il Comune ha dedicato al protagonista del romanzo di Mary Shelley in occasione del bicentenario dalla pubblicazione. Un bilancio della manifestazione con Nicola Pasqualicchio, docente di Discipline dello Spettacolo e coordinatore scientifico del Festival. Credo che il bilancio sia veramente molto positivo perché al di là dell'inizio spettacolare e divertente con la maratona che ci hanno mostrato tanti classici ispirati al mito di Frankenstein a cui ha partecipato anche molta gente, il convegno poi si è sviluppato secondo un'articolazione che credo sia stata indovinata. Ed è stata un'idea unica perché Frankenstein è stato celebrato anche da altre università, da altre città italiane per il bicentenario della pubblicazione, però il fatto di costruire un evento così a 360 gradi è anche complesso perché oltre al convegno la maratona cinematografica e la maratona di lettura mi sembra che sia risultato vincente. Il progetto ha inoltre inaugurato l'IMEN, il centro di ricerca sul fantastico nelle arti dello spettacolo, diretto dallo stesso professor Pasqualicchio e da Alberto Scandola, docente di storia e critica del cinema, che sottolinea il ruolo della settima arte nel rilanciare il mito di Frankenstein. Oggi il mito di Frankenstein sopravvive come avete potuto vedere nei tre film promossi presentati al Polo Zanotto, ma credo che il mito di Frankenstein nella scienza abbia ancora tanto da dire, forse ancora di più, perché il Frankenstein cinematografico resta bellissimo nei primi anni, negli anni 30, ma le ultime riduzioni non sono all'altezza sicuramente delle origini. La relazione fra il personaggio ideato da Mary Shelley e il mondo della scienza, nelle parole di Giuseppe Faggian, docente di anestesia e rianimazione cardiochirurgica. Frankenstein è rappresentato sempre come mostro, anche nella scienza qualche volta si creano dei mostri, è vero. Io mi occupo di trapianti, di cardiochirurgia, quindi quando sento parlare di trapianto di testa, trapianto di faccia, eccetera, sono trapianti del tutto particolari questi, perché il trapianto della faccia, per esempio, identifica il paziente, cioè io la vedo, la riconosco, se la trovo per strada la saluto, se lei fa un trapianto di faccia non la riconosco più, ma magari viene riconosciuta dai parenti del donatore e questo è un problema etico importantissimo. Grazie.